Ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio degli acquedotti. Marche Multiservizi ha partecipato al bando del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, con un progetto che è stato ammesso alla graduatoria e poi finanziato. La proposta progettuale, che prevede un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, rappresenta un risultato storico, un intervento necessario per migliorare la rete idrica della provincia di Pesaro e Urbino. Portare un intervento così nel nostro territorio credo che sia veramente molto importante e fondamentale per l'amodernamento e il sviluppo della nostra impiantistica acquedottistica. È un progetto che è stato progettato per contenere le perdite di rete e chiaramente si basa su diversi lotti. Il primo lotto è quello digitale, quindi andremo a digitalizzare tutte le nostre reti acquedottistiche, al quale segue la modellazione dei flussi e quindi che ci consentirà poi di ottimizzare le pressioni nell'ambito dei diversi distretti che andremo a realizzare. E questo ha il compito e lo scopo soprattutto di migliorare la resilienza delle reti e quindi aumentare la durata della vita utile delle stesse e anche ridurre le perdite, perché comunque meno pressione c'è nelle reti, ovviamente meno acquese. Collegato ai distretti abbiamo anche un intervento importante che vale circa 19 milioni di euro per quanto riguarda la bonifica e quindi la sostituzione di circa 60 km di rete, quindi quelle che saranno valutate attraverso anche un aspetto innovativo. Abbiamo previsto nel nostro progetto una ricerca innovativa delle perdite attraverso i raggi cosmici. Un'occasione unica per migliorare la rete idrica del territorio, un investimento straordinario che porterà benefici alla comunità e all'ambiente. Questo progetto, infatti, consentirà di centrare un risultato fondamentale per la tutela della risorsa idrica e per la riduzione delle perdite nella sua distribuzione. I lavori presentati questa mattina in conferenza stampa dovranno terminare entro marzo 2026. Marche Multiservizi ha presentato un progetto importante che guarda il futuro della rete della provincia. Ovviamente questo non è sufficiente per garantire la risoluzione di tutte le problematiche legate alla crisi idrica che appunto prevedono un altro pezzo che è quello dell'approvvigionamento, per il quale comunque siamo anche lì, siamo pronti, abbiamo progettato, ci sono altri progetti che sono attesi di finanziamento, però già nel giro di poco tempo credo che Marche Multiservizi andrà a migliorare la rete che è una rete ereditata dai comuni, ovviamente quindi molto vecchia, che stiamo di volta in volta cercando di rammendare, ma con questo intervento faremo un salto di qualità importante. Grazie a tutti.